Eh, si fa la medicia, qui c'è il bastone Non riesco a scumare troppo che ti esce la rosa Questo è il pezzo floro Già finito Eh, stai attendo, che poi venga puzzi Devi comprare l'attacco O che è successo? Ha levato l'indice da freni Quattro sì, no Quattro 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 Grazie a tutti.